Ciao bellissimi, sono Grax, bentornati su StumbleGuys Come sempre, subito, mi raccomando, droppate un like, almeno 10.000 per un altro video Iscrivetevi e campanella, siamo quasi a 1,70, vi aspetto E codice Grax, dove pare? Intanto faccio pure una girata, oggi finalmente li abbiamo in video Che cosa voglio fare? Voglio fare un video particolare, come sono domandato Grax, Bonnie la leggendaria? Eh, te pareva, regà, la scammata Simil BB Idol Simpatica la skin, un po' panchettara Altra girata nel frattempo Ma secondo voi, si può vincere qualche partita senza utilizzare il doppio salto? Secondo me è tosta, considerando che siamo intorno alle 100 win Il matchmaking è un pochino più difficile rispetto all'inizio Io ci voglio provare, voglio sfadar sto mito Altra cosa, il secondo step sarebbe provare a vincere senza saltare Solo che alcune mappe richiedono per forza il salto perché non ci stanno i passaggi che puoi fare camminando Però ci si può provare magari in quelle situazioni limitare il salto Voi lasciate like per un altro video del genere, iscrivetevi, campanella e ripeto codice Grax Perché arriveranno anche le girate epiche per trovare le skin speciali Detto ciò, io partirei, tra l'altro la prossima win sarà la 104esima win Proprio perfetto per questo genere di video dove sono un po' depotenziato Vediamo quello che succede Io ve lo dico, non è fattibile Cioè, secondo me non è fattibile Bisogna azzeccare proprio le mappe quelle giuste Magari tipo i laser Evitando il doppio salto Allora, io utilizzo solamente il salto base Ecco là, già mi hanno schiantato E non devo buttarmi di pancia per velocizzare le partite Voi provateci anche con i vostri dispositivi Magari faccio fail, tanto lo vedete regà Se faccio fail annullo la partita Non devo buttarmi di pancia Quindi tutto quello che ho migliorato nel tempo Giocando a StumbleGuys lo devo dimenticare Ecco là, vedete? Non ho saltato di pancia boys Rischio di non qualificarmi al primo game Però ho fatto un errore da pollastro, eh Salta tranquillo Grax Forse ci riesco Diciasettesimo Il mio numero fortunato Bene, l'inizio ragazzi È proprio da 104 Facciamo un altro match Non te la scioppo la skin La voglio trovare Stumble ci prova Dammi una mezza piottella Che ti do la skin speciale No Grax Non peduschippa Grax Calma Trova le cose Calmi Raffinatezza ventola Ora non posso fare il trick Ad esempio qui sono molto depotenziato Posso solamente Eh, rega Non è semplice Non so quello che è successo Ok Praticamente mi hanno saltellato E mi è partito Un simile doppio salto Ma sono rimasto praticamente fermo Eh, la vedo Un po' brutto Però prova a qualificarmi Saltello semplice Ok Saltello semplice Ricordate i Grax Un solo tap Non il doppio tap Qui potrebbe essere un po' problematica Però saltando qua Ragazzi Fidatevi dei Grax Che non è semplice Però primo game Qualificato Giustamente Dato che sono depotenziato A livello di doppio salto Non utilizzerò neanche l'emoticon Ma il match quello Senza i salti Non è realizzabile Cioè Devi andare sempre preciso Poi ci sono delle zone Dove per forza di cose Devi saltare Voi fatemi sapere Se un video del genere Potrebbe piacervi E interessarvi Continuiamo A giocare Senza doppi salti Ma tipo Il football Partita Dove Devi giocare Assolutamente Detestate sulla palla Come fai a farla Col saltello normale Saria un grande malus Per la squad Mentre Il rocket Potrebbe essere Una partita Abbastanza tranquilla Perché lì I doppi salti Non ci stanno Capito Oppure potrei farlo Senza Sparare Ecco Il depotenziamento De rocket È praticamente M'hanno massacrato Raga È praticamente Non utilizzare i colpi Andare a contestare So le punti Occhio alle bombe Momento abbastanza tranquillo Non farò Mai nella vita Doppi salti E poi Gioco finale Vi giuro Se vinco Impazzesco Se vinco Impazzesco Occhio ai bomboni Ne crepano tre Non mi sembra Una lobby fortissima Non ci stanno Skin speciali Ne devono schiantare Due Gioco finale Taglie con la centoquattressima Se vola Pidiamo se la centoquattro Dammi il laser E farò tutti i saltelli Precisi Ah Questo è un problema Eh Non vincerò mai Qui il doppio salto È fondamentale Ragazzi È fondamentale Per rompere i blocchi Devo sperare Che gli altri Se schiantano prima E che mi aprono i blocchi Oppure che magari Sul trisse dei blocchi Che Si alzano Io riesco A saltellare preciso La vedo bruttissima Questa non mi qualifica Questa non è fattibile Aprono Posso rimanere tranquillo Schiantatevi tutti Fatemi vincere Senza doppio salto Ce la posso fare Grax c'è Passaggio a sinistra Ok Eh Tipo io qui morirei E sono stato comunque Abbastanza fortunato Ok Molto tranquillo Non Doppio salto Grax Preciso Fino a qui ci siamo Devono aprire Io saltello Mono saltello Qui ci passo Senza problemi Qua ci potrei passare Senza problemi Anche qui Siamo rimasti In quattro Qualcuno E mo che faccio Ok Il mio amico mi ha aiutato Apri sotto Bello Siamo passati in due Regà zitti Uno v uno Con un Grax Depotenziato Apri Bello mio Leggi tutto Bello E mo che favo E mo regà Che facciamo Ha già vinto Ho vinto Ho vinto La 104 Ho vinto Non ci voglio crede È possibile Questo Vi mette proprio In evidenza Il fatto che Si Stumbleguys E P2Win Perché Con le motte Sei avvantaggiato Ma se becchi le lobby giuste E fai Delle partite buone Comunque puoi vincere Addirittura Senza doppio salto Per farvi capire Molto bene Ne facciamo un'altra Vi giuro Non ci avrei scommesso Un euro Qui ad esempio Non posso fare Il trick Quello tattico Sul secondo Tronchetto Che puoi bypassare Il tutto Anche qua Molto tranquillo Grax Dei fare Tutti i monosaltelli Speriamo che abbassino Le piattaforme Se no non ci passo Ok Tutti i monosaltelli Django roll È difficile Vai Non posso fare La scivolata De pancia Tutto preciso Quelli se schiantano Con le scivolate Io qua faccio un saltello I saltelli Sono obbligatori Non li puoi togliere Cioè non esistono Ragazzi Partite come vi dicevo Dove Mamma mia Il rischio Dove non salti Anche laser game Cioè Te frigono subito Se ti acchiappa laser game Il salto è fondamentale Ora Qui La vedo un po' Bruttina Perché Ci sono arrivato Ok Ah Mi tocca Aspetta che scende Non so che è successo Era monosalto Mi ha fatto il doppio salto Con un Salto solo Quindi Io la do per buona Poi il bar Fatemi sapere i commenti Che è successo Premente Saliva Credo il portone E mi ha fatto scivolare La butto là Avete sentito che Il tastino è stato premuto Una volta sola A mia discolpa Dico questo Però ci sono anche queste situazioni Abbastanza particolari Comunque secondo game Fosse stato il game finale Sarebbe stata una partita Un po' puzzona Così ce la gestiamo Qua occhio Crax Salta preciso Non vado nel mid Perché non mi posso Buttare faccia E allora Insomma ragazzi La situazione non mi piace Saltello normale Potrei recuperarla Però il karma È il saltello Quello di faccia Che manca Se sente Però io ce provo Saltelleno Regà non ci arrivo Cioè non è fattibile Questa senza salto Di faccia Come fa Ah devo fare Premente così Eh beh L'ho capito dopo Ma più che altro Oramai sto indietro Però Il karma è giusto Per la partita di prima L'annulliamo Rimango con 104 Che è il mio numero GG per la 104 Facciamo un altro match Voglio arrivare alla fine E vincere Arrivare a 105 Almeno togliamo il 104 Attenzione alle palle Attenzione alle palle Non posso fare il trick In alto a destra In alto a sinistra Per andare Sul bordino Quindi partita Abbastanza chill Te pareva che me sbocciavano Subito Anche se guardi in avanti Io me voglio bene Ma cambia poco Perché ce ne quattro Tutte le fronte Per forza le cose Ti acchiappano Eh che fai Prova a buttare Guarda come me punta Guarda come me punta Ok Bene Non vincerò mai Perché anche se saltello Stanno tutti quanti davanti Partita nulla Mo ne rigiochiamo un'altra Lasciate perde Viva l'intrattenimento Grossa schivata Te prego Me li sbocci tutti Solo 10 Si devono qualificare Prima di me Non penso mai La rifacciamo Mo che ci penso Tra l'altro Ma ritata la stessa partita Di prima Nella partita Dello space Che il doppio salto È praticamente L'80% Del match Lì come fai A vincere Impossibile È assolutamente impossibile Cerco di qualificarmi La partenza è molto buona Cerchiamo di farmare il tutto Il pulcino per il passaggio Si gode Non facciamo Doppi salti Occhio Alle palle da bowling Bottarella da dietro Ma comunque ce sto Qui non posso fare il trick Volevo schivare il tutto E ce l'ho fatta Perfetto Mi sono addirittura Qualificato come primo Senza fare mai Non mi sono qualificato Come primo Mi sono qualificato Come primo Perché quello si è buttato Di sotto E poi dopo si qualifica Senza fare il doppio salto Uh Secondo match Molto buono Ci ho dato tante mappe oggi Quindi abbiamo Valutato tutte le varie tipologie Però bisogna stare precisi Con il tempismo qui Perché A differenza Del classico tragitto Non te puoi buttare panza E non puoi schivare bene Mamma mia Tutti gli ostacoli Eh raga S'ho passato malissimo Mi sta a pia pizze tutto Però Tanto è top 8 Aia Oh Mi è stato affamalissimo Fatemi qualificare Ok Attenzione alla piattaforma Forme mobili Preciso Mi sarebbe piaciuto passare Però comunque Sto lì Sto lì Sto lì Basta fare saltelli precisi Gioco finale Saltelli precisi Ottavo ragazzi Gioco finale Dagli che voglio fare Un'altra win Senza il doppio salto Vi giuro Vi giuro Sono troppo curioso Di vedere Laser game Troppo curioso Sapete che molto spesso Faccio i saltelli De pancia E riesco a masterare La situazione Il karma L'avevo detto Non si può vincere Questa qua Questa qua è veramente Impossibile Vincerla Senza doppio salto Fa Praticamente Tutto Infatti già vedete che Non sono andato sulla Piatta No rega Non è fattibile No 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 Mancano proprio i pezzi Cioè io posso pure Fare Dei passaggi E mo dove vado Mi do canna sopra Perché Sicuramente Senza il doppio salto Non ci arrivo Della No questa non è fattibile Diciamo Resoconto Finale Della challenge È possibile Si può vincere Senza doppio salto Sì Ma vede Vedate le mappe giuste Perché se vedate le mappe Dove il doppio salto È fondamentale Te dico Fermate Assolutamente Infattibile Tipo io lì Ci poto passare Col doppio salto E anche qui Ci poto passare Con il doppio salto Senza il doppio salto Sono tornato indietro Vabbè Diciamo challenge Divertente Però una mappa così Senza proprio saltare Non puoi farla Lasciatemi un commento Tanti like Se vi è piaciuta la challenge Chiuda 104 win Ma credo Che sia Il numero giusto Per questa tipologia Di challenge Iscrivetevi A campanella Per non perdervi Altre live Con gli iscritti Eccetera I video Tutti i giorni sul canale Alle 11 Di mattina Gli shorts Codice grax ovunque Un bacione Ciao belli Dal grax Poco salterino Ciao